dal vangelo secondo luca in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese siate simili a quelli che aspettano al loro padrone quando torna dalle nozze in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli in verità io vi dico si stringerà le veste ai fianchi li farà mettere a tavola e passerà a servirli e se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così beati loro